Goku e Freezer contro Sidra e i suoi assassini. Nell'episodio in cui Goku e Freezer si alleano per sconfiggere Sidra e i suoi assassini si nota che i due combattenti unendo le forze riescono a sconfiggerli. Tuttavia dopo aver sconfitto gli avversari Freezer ritorce contro Goku una sfera della distruzione di Sidra e si mette in contatto con il dio della distruzione esprimendo la richiesta di unirsi a loro per vendicarsi di Goku e dei suoi amici e farsi risuscitare tramite le supersfere del drago. Goku però propone a Freezer di combattere contro di lui e se Goku avesse vinto Freezer si sarebbe schierato dalla parte del Settimo Universo. Freezer accetta perché è sicuro di se stesso ma lo scontro termina in parità. Freezer comunque successivamente combatterà a fianco del Settimo Universo. Freezer 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 Freezer